Si è aperta oggi ad Arezzo l'udienza sul crack di Banca Etruria relativa al filone delle cosiddette consulenze d'oro dopo il rinvio dello scorso 14 gennaio. L'accusa per i 14 imputati in questo filone è quella di bancarotta colposa per presunte consulenze disposte dal dicembre 2013 in materia di assistenza legale nel contesto del progetto di aggregazione ed integrazione della banca in un gruppo bancario di elevato standing, una richiesta delle autorità bancarie per strutturare la fusione con altri istituti di credito. In totale furono spesi 4 milioni e mezzo di euro. Sono così stati nuovamente chiamati in causa dalla procura aretina che ha chiesto il giudizio con citazione diretta l'ultimo CDA di Banca Etruria quasi al completo. Sul banco degli imputati anche Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena e all'epoca dei fatti vicepresidente dell'istituto aretino. Per tutti gli altri filoni in cui Pierluigi Boschi era stato coinvolto, le accuse si erano risolte con un'archiviazione. Nel corso dell'udienza questa mattina sono state presentate le richieste di costituzione di parte civile, circa 180 tra azionisti ed obbligazionisti. Nell'udienza di oggi poi alcuni legali avevano anche chiesto un rinvio per legittimo impedimento a causa del Covid ma l'istanza è stata rigettata. Accolta invece l'altra richiesta di rinvio avanzata sempre dai legali difensori, in questo caso per l'inadeguatezza strutturale delle aule d'udienza del Tribunale aretino come già disposto per il processo relativo al crack dell'istituto di credito. Il giudice Ada Grignani ha così disposto il rinvio al prossimo 4 marzo, in cui la data si discuterà sulle costituzioni di parte civile.